Ehi la ciurma, io sono Mattia Tess e ben ritrovati qui su Expeditions Viking. Stavo per tornare via alla mappa quando mi sono accorto che c'era effettivamente un'altra missione che ci avevano dato qua per questa zona, cioè che erano state derubate da una fattoria e volevano che recuperassimo i loro averi e praticamente dobbiamo andare a minare questi. Visto che siamo messi mediamente bene per quello che possiamo aspettarci, insomma, dalla situazione, direi che facciamo un salvataggio così easy qua, tipo questo, che tanto è andato tutto alla perfezione non abbiamo perso nulla e andiamo a confrontarci con questi per recuperare il viso. Ha messo lui? Ah, lui sta cercando di scappare, no? Enemies reach the highlighted areas. Cioè, o qua o là. Allora, se io gli faccio... Ahia! Cazzo... Lui cercherà di scappare, per cui si va... Ah! Porca miseria! Ancora? Ma tutti? Guardi che sangue erano qua! Cavolo, erai già messa male! Chi è che può guardare le trappole? Forse era solo Nephi che poteva guardare le trappole. Mi sa... Allora, tu... Guardamelo, please. E qui lo mando avanti, a vedere se... Ma qua mi sa che scappa questo, sai? Porca pupazza! Ho dovuto stunnarlo, altro che... Ma di nuovo? Che cavolo... Adesso dovremmo aver ripulito tutto possibile? Dai però! Allora... Allora, tu fai che... stunnarlo. Così non va da nessuna parte. Ma sono ancora bloccato io? Non ci morire, Roskva. Ok, mi sono liberato. Lui... Lui anche, ma... Troppo tardi. Non troppe ferite, non troppe ferite, please. Non troppe ferite, please. Cavolo! Ma povera donna! Quante medicine abbiamo? Pochissime! Ah, porca di una miseria! Qui non c'è altro, vero? Si è messi proprio molto male, eh. Posso dirlo. Perciò dovremmo tornare in lama. Ah, c'è della roba qua da raccogliere. Roba che non avevo preso lo scorso giro, forse? Mi sembrava di aver preso abbastanza tutto in giro, no? Mi direi che faccio così. Che raccolgo, tipo, tutto quello che vedo. Tipo qua, abbiamo preso le robe. Sì, sì, sì. Era solo là, praticamente, che non l'avevamo preso. Mi sa. Penso. Sembra che sì. Allora, torniamo dal tizio... Dove è che? Qua? Qua. Ah, sì, che eravamo arrivati là e avevamo detto al ladro, al ladro, avevamo inseguiti i ladri, ma c'era scappato e boh. Ho preso qualcuno, però. C'erano cinque? Ah sì, erano glitchati. Sei, cioè. Ehm... Niente, andiamo a riportargli la sua aria furtiva. L'idolo, la statuetta dell'idolo, in particolare. Ehm... Quella di lei. Ed erano stati pugnalati di pomeriggio. Eh, infatti. Hai trovato il ladro? Hai la figurina di mio nonno? Sì, eccola. Prende la figurina con grande cura. Trova la storia dei danni e poi la rimette in modo riverente su una mensola vicina. Grazie mille, giovane uomo. Non possiamo ripagarti per quello che ci hai fatto. Prendi questa piccola... Eh... No scusa, sia una cintura. Tipo... Come... Segno del nostro eterna gratitudine. Ehm... Ehm... Ah, ci ha dato uno di pelle. Ok, però abbiamo aumentato di riportazione con Ribe e abbiamo avuto 5 skill point. Che non fanno mica male in tutto ciò. Per cui... Ehm... Boh, ce ne andiamo via direi. E dobbiamo curare tutti fortissimo adesso. Non abbiamo più nulla. Abbiamo solo da parlare con chi per finire tutto. Io ho paura tra l'altro di finire tutto. Se poi non fossimo abbastanza pronti... Ehm... Parla con Astrid. Che è... A casa. Astrid è una mamma. Beh? Mi ricordo bene. Mareo, adesso dobbiamo curare 70.000 persone. Ci sono tutti morti adesso. Ehm... Ehm... No, aspetta un attimo. Ehm... Qua c'è qualcuno che si stanca. No, allora andiamo in là. Andiamo in qua. Possiamo. Raccogli... E poi torna indietro. Dai, ci accampiamo qua. E... Dormiamo e... Cerchiamo di... Di sistemare un po' di cose. Ehm... Più che altro si è messi davvero, 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 davvero male come erbe, come medicine. Allora, abbiamo due critiche. Una severa e una light. La nostra Roskva deve curare il brutto. Heal. Allora, chi è che rischia di peggiorare di più? È Nefia. Questa qua rischia di peggiorare di brutto. Ma... Medicine non ne abbiamo. Ehm... Heal. Chi però è? Ehm... Non si riesce, non si riesce. Abbiamo troppo poca... Troppo poche medicine. Lei fa witchcraft tutto il tempo. Tu fai un altro witchcraft. Riusciamo. Quanto fa? 12 medicine. Che sono comunque troppo poche. Ehm... Troppo poche medicine. Così non si può. Caccia, caccia. Allora... Qua... Ehm... Controllare. Sono tutti a posto. Ehm... Cos'è che ci dice? Allora... Slafer... Eh... Non so. Nefia ancora... Sette... Ehm... Andiamo in carne a tutti. Ok. Ma ci resterà comunque della carne che va male. Ehm... Preserva, 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 preserva... Però chi è che abbiamo fatto per... Ripara qualcosa. Perché abbiamo dato delle robe un po' rotte in giro. Allora... Ripare e Eidis. Anche. Le avevamo dato del repair. Per cui... Ripare. Cosa facciamo? Ripare. Ehm... Non faccio sapere se sono equipaggiate. O... Meno. Ste cose. Ah... Equipped. Ok. Lo dice. Equipped by Sveina. Equipped by a Slafer. Svala. 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 Da me... E da Gunnar. Io sistemerei quelli che sono messi male Tipo questa cosa di Sleifr 17 belli però Peppina Tanto la ripara del tutto Sì, penso di sì Nefia ha un sacco di Nefia l'aveva messa Scout e Preserva Guardia in eventualità Guardia non ci serve Scout potrebbe servire Ma sta male Per cui tu Preserva e Preserva Puoi preservare mentre sai sì C'è della roba che va male No, adesso no Dovrebbe essere a posto per tutti Il problema è che Ho paura che peggiorino gli altri 50-50 Ah no, ok Nessuno è peggiorato Ottimo così Ottimo così Buono Adesso ci riporta la mappa Vero cosa ho cliccato Sì, ok E di carne ne abbiamo tranquille Reazioni ne abbiamo anche parecchie Abbiamo fatto scouting però Per cui Qua Low security Ma va bene Va bene Non è un Un trauma Occupied Questo però Arriviamo che sono Tutti stanchi morti No, non credo No, andiamo su questo che è meglio Ah, hanno finito Ok, hanno finito le Palisade Palisade Che è questo Più 4 di power Ok Power non siamo tantissimo forti Ma Se possiamo Uppare adesso Allora Questo ci dà Più valuable E più power Questo ci dà più erbe 25 danno e 10 hide 2 power E più 3 hide 3 weakly però Crafts armor of higher quality Oppure craft weapons of higher quality Tutti i due ci danno power Questo invece Prosperity E in questo momento Mi sa che È un po' più importante il power Non lo so Questo quanto costa 50 di legno 4 power E 75 Valuable Weekly Ma io farei più Eh, però le hide Potrebbero servirmi Per la Andrei sulle armature Forse però Perché 4 più 6 Più 4 più 6 C'è qualcos'altro Che ci dà Hide O No La dobbiamo scegliere O hide O O salvage Mi sembra che troviamo più Armi In questo momento Che non armature Per cui andrei sul Su Questo Però di armature Possiamo farle più facili E se invece andassimo sulle palizzate 100 di legno però A quel punto Allora è meglio farci Questo Questo 50 di legno E' davvero un po' Perplesso Facciamo le erbe Dai Facciamo ancora altre erbe Sì Una settimana Ah ma non abbiamo più schiavi Ma stiamo facendo altro Al mentre No Abbiamo uno schiavo Ma forse lo consumi Quando Buh Adesso siamo siamo qua Per cui entriamo Sì Ci accampiamo E Vediamo un attimo Di curare la gente Per quel che si riesce Poi in realtà Se torniamo in là Dovrebbe curarci tutto In automatico Allora Assegna a tutti carne E ancora ne va male Ma porra Allora Roskva Tu devi curare Puoi curare qualcuno Mi sa che No 18 Costa Eh Mi sa che conviene Che non Non le faccio curare Ma le faccio Witchcraft Tutto il tempo Così che domani Ne abbiamo di più Ma 18 Ah no 18 erbe 3 6 No Così consumiamo Tutte le erbe Praticamente E Nefi è però Ancora da curare Parecchio Facciamo Preserva E Edis Ha ancora Qualcosa da fare Ma l'armatura L'ha sistemata Dal tutto A Coso Mi sa di sì Oh Sistemiamo questa Di Sveina Ripara questa Sì E E E Boh C'è qualcosa che No Che possiamo fare È proprio nulla Aia C'è un buco in un sacco Niente Mi ha perso Le razioni Perché I topi ci hanno mangiato Le razioni Mannaggia Cavolo È passata fatale E Gunner Ha critica Porca Mi si è messi male Eh Mi ha dato 18 medicine Ma non riusciamo a curare Le peste Adesso che sono messi così male Riusciamo a correre Fortissimo A casa Ok C'è qualcuno Che ci Richiama Gunner Sta cadendo Imbarazzato E Gli diamo 5 di cine Va bene Oh prendiamo i soliti No Eidis No Roskva Ok No aspetta Ma Sì qua è Schierna Sì Ok 1 2 E Roskva Ok E dobbiamo andare da Tipella là Per farceli curare Finché riusciamo Cioè nel senso Sono messi davvero male Come non so che cosa Per l'altro Non abbiamo qualche medicina Da par Cioè Neanche tanto In realtà Devo vedere Se riusciamo a Commerciare qualcosa Prima di partire Non avremo più la possibilità Di andare Da Hulda Che ci cura Potentissimo Immagino Per cui Comprare qualche medicina Spendendo qualche valuable Non è una cattiva idea Se possibile Se possibile Adesso dovrebbero essere Tutti a posto Eh Sì Tutti a posto Di mercanti C'è C'è Veldulfr Ma Ehm Training ring Eidis farm Brannas toll Get it home Neffia O Il sito di Ah No Ok Questa qua È la tizia Che era già questa La che avevamo salvato Tipo Ah Di Ribe Sì Che le avevamo detto Vieni ad accamparti da noi Ok Contento di essere qua Quindi non ti manca Ribe Non andava bene Però in quella città Porta Cioè Sono più felice E Il commercio va bene Sono contento di avere il mio Banco Ora Libera da quel Bardang Che era Vrangre Quindi cosa vendi? Quello che riesco ad avere Ok Vediamo cos'hai Che mi puoi vendere Ah Vende delle medicine Ottimo Posso comprarti Tipo Tipo Tante medicine Noo Facci prima così mi sa Ottanta dai Dami 80 medicine Invece le razioni Quanto me le paghi? Una razione Sono 8 valuable Non è male Se dovessi farne abbastanza 10 razioni Sono 80 valuable Che male non fanno Prendiamo 10 razioni Ci sta E E E E 3 di carne Dai Ha un po' di hide Niente Legno Non possiamo Neanche erbe E neanche schiavi Va bene Sono contento Mi ha trovato La tizia Che mi ha venduto Un po' di medicine Così almeno siamo Mediamente più sereni Vediamo se L'armaiolo qua Ha delle robe da Ehm Venderci Perché allora qua Ehm Non possiamo fare nulla La casa di Casa di Ketil C'è Ehm La moglie di Ketil Che non so se Puoi riparare il mio Occupaggiamento Danneggiato Quanto mi Costa Ah Due salvage Ma 240 valuable Eh No Non mi conviene No Ehm Ah ma non vende lui No non vende un corno Ehm Dov'è il tizia Qua Sigridre Sigridre Manadottir Ehm Ah può venire La mia spedizione Ehm No Ah Sì che dice Delle costruzioni Ah si dice di costruire Qualcosa Ah tra l'altro È vero Hanno fatto la palizzata Guarda com'è Più Più Tutto meglio Chi è Helm Helm L'Ethridre Ok Dov'è la casa di Nephia Piuttosto Casa di Nefia Qua Appena Cioè ci eravamo attaccati Voglio vedere se sta un po' meglio la Sorella di Nephia Ma probabilmente non ci dice ancora nulla Cioè ci vorrà più tempo Cioè ci vorrà più tempo immagino Non posso neanche parlarci Per cui niente Detto questo si è fatto di nuovo tardi Io vi ringrazio per la visione Vi invito a lasciare un mi piace Un commento qua sotto E scrivere se per caso non l'aveste già fatto E io in compenso Non posso che augurarvi una buonissima giornata Ciao a tutti Grazie 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 a tutti.